Grazie a tutti. Grazie a tutti. Scusami, non potrebbe essere ragionevole che uno le postissi qualsiasi 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 qualsiasi. Si è avuto un po' di dentro. 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 Vai Gio, vai. 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 Vai Gio. Vai Gio, vai. Vai Gio, vai. Vai Gio, vai. Vai Gio, vai. Vai Gio. 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 Sali, sali, sali! Ehi, ehi, ehi! Giacca, giacca! Siamo a casa! Sali, sali, sali! Calcio, dos! Calcio! Uh, uh, uh! Che culo! Che culo! Mischia nostra sotto! Venga! Via! Prontiii! Biii! Pronti! Poi! 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 Poi, ali, sali, sali! Sali, sali, sali! Che il mio padre... E qui sarà tutto... ...veva venire tranquilli! Ma dovevano detto i ragazzi che forse non venite... Che venivano... Eh, però l'idea era di venire prima, ma per venire da voi, cioè dormire da voi, però... Io avrei anche iniziato, ma c'era la nonna, senza appello. O, passi! Oh, passaggio. No, scusa. Oh, passaggio. Gioca, gioca, gioca! Non si sta in piedi. Quello non era 10 metri, cazzo. Ah, quello di domenica scorsa? Sì. E lì, l'arbitro me l'aveva detto. Oh, passaggio. 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 Passaggio del cazzo. 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 Sì. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.